Ciao amici di Anime Click, buongiorno, benvenuti a prendere il caffè con noi oggi a colazione nerd, come sempre non mi sono lasciato scappare l'occasione di invitare un'altra suave fanciulla anche oggi, perché mi fa piacere. Ciao a tutti. E quindi benvenuti a prendere il caffè con noi oggi a colazione nerd. Ciao a tutti, io oggi invece sono con il tè verde. Perché come mai il caffè, se sono visto, fai bene il caffè, è una cosa da noi ruzzi impiegati vecchi. No, è che se ne prendo troppo, poi dopo mi tramano le mani e non riesco a disegnare. Ecco, vedi, sempre l'artista prima di tutto e fai benissimo. Caterina, tu sei fondatrice della Lucca Manga School, sei, ah, aspetta, c'era anche Cristiano oggi, non so perché era sparito lì, eccolo. Che fine mi hai fatto? Mi chiama Connessione che ogni tanto deve fare di Bizze, buongiorno signori. Un po' sono andato a riattivare il modem, che è nell'altra stanza. Vabbè, i problemi di Connessione in live sono assolutamente inevitabili. Scusate, scusatemi. Va bene, dai, ci stavamo veramente godendo Caterina in santa pace, sei arrivato pure te e va bene. No, dai, sono bravo. C'è gente che si sta innamorando di Caterina, è vero, l'avete scoperta voi, ma è tardi, tardi, ma Caterina, a volte tutto, che è questa gargazza, che è anche un'artista a tutto tondo. Stiamo cercando in quest'ultimo periodo, mi sto un po' battendo Caterina, per cercare sempre un po' di sfatare questo mito che gli italiani che disegnano manga non sono, sono solamente quelli che scimmiottano i giapponesi. Quando in realtà c'è una scuola, c'è anche una serie di personaggi e veramente una sequela di collaborazioni che hanno fatto anche un po' la storia del fumetto italiano e adesso a questo punto piano piano la stiamo scoprendo. Abbiamo avuto Marco Albiero lunedì, oggi non a caso arrivi te, diciamo la generazione che è venuta un po' dopo Marco, Marco ha fatto un po' da apripista e poi è arrivata la generazione tua, io ti ho visto veramente che eri giovanissima, ho seguito da sempre insieme con... con Alex Zero e tutta la tua carriera ed è stata sempre una soddisfazione vederti crescere e diventare questa giovane artista che sei, veramente sono molto contento di averti oggi anche per parlare un po' anche dei tuoi successi e delle tue esperienze, oltre che conoscerti un po' a tutto tondo, oltre anche la Caterina disegnatrice. Innanzitutto che cosa stai facendo ultimamente in questa situazione un po' difficile della pandemia? Non funzionava bene questa cosa perché più che altro proprio le persone non riuscivano a capire come funzionasse, magari non si presentavano in classe perché pensavano che fosse un tutorial, non riuscivano insomma a gestirla come si deve, quindi a un certo punto abbiamo smesso, però sapevamo già fare. Quindi poi all'inizio della prima quarantena abbiamo rimesso su quello che già avevamo lanciato già dieci anni fa, l'abbiamo rimodernato, rimesso su e adesso tutto il giorno, tutti i giorni noi abbiamo lezioni online, che è una cosa bellissima, che è una cosa bellissima perché poi abbiamo la possibilità di raggiungere anche tutte quelle persone che non si possono magari spostare per seguire il corso, perché normalmente erano gli studenti che venivano a Lucca Manga School, anche da lontano perché poi da tutta Italia, sono sempre arrivati da tutta Italia i nostri studenti, però appunto in questa maniera possiamo andare noi direttamente a casa degli studenti che è molto bello anche questo. Quanto ti manca la vita di prima diciamo e cosa hai scoperto in questo periodo complicato anche per voi disegnatori, che in realtà diciamolo, alla fine per chi invece sta sempre chiuso in casa e disegna tutto il giorno, più o meno non è cambiato nulla. Infatti stavo per dire, non è che mi sia cambiato granché durante la quarantena, anzi ho avuto maniera di focalizzarmi ancora di più sul lavoro, di mettere su altri progetti, di creare una rete di connessioni anche proprio attraverso queste live Twitch. Per me è stata un'occasione insomma di connessione un po' più giornaliera, un po' più snella, un po' più agile che prendere e andare alle fiere. E quanto a tempo che passo in casa non è cambiato assolutamente niente, proprio non è cambiato assolutamente niente. Infatti si vede, siamo tutti abbastanza belli coloriti, vedi? Tutti belli bianchi che usciamo sempre meno, il sole non lo vogliamo. Coloro mozzarella. Sì, 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 diciamo che stavo pensando anche io ormai di portarmi il computer fuori al parco così almeno respiro aria, che non sia di casa, perché siamo sempre perennemente in casa, come penso la maggior parte delle persone. Quanto ti mancano però le fiere? Era un modo anche di avere un po' un contatto diretto con le persone? Guarda, all'inizio le fiere non mi mancavano per niente. Adesso un po' mi mancano, più che altro perché mi manca incontrare faccia a faccia gli altri creators, giornalisti, youtuber, tutti gli autori. Mi manca un po' incontrarci e prendere un caffè insieme, quindi sono contenta che oggi mi abbiate offerto un caffè. Però ecco, noi con Lookamanga School ci siamo un po' creati le nostre fiere alla fine, facendo i camp, siamo partiti con il camp di Lucca Comics e poi abbiamo continuato a fare ogni tanto delle maratone qui su Twitch per fare appunto un po' come se fosse una fiera, ecco, un po' come se fosse una fiera, però mi manca, mi sta cominciando a mancare. Poi ragazzi voi vedete Caterina è giovanissima, però da quanto tempo scalchi i palchi, fai le lezioni e ti occupi di questo. Cioè io praticamente penso che sei un bambino a prodigio praticamente. Sì, allora ho cominciato a studiare disegno e manga intorno ai 14 anni, poi ho cominciato intorno ai 14 anni ho cominciato ad andare e tornare dal Giappone appunto per studiare per studiare manga, per studiare giapponese. Non è una cosa da tutti, perché a 14 anni i genitori ti hanno mandato in Giappone. Vabbè, non da sola, però sì, mi hanno sempre accompagnato in Giappone finché si doveva, perché poi la maggiorità in Giappone è ai 20 anni, quindi fino ai 20 anni io ero così, dovevo essere accompagnata da un adulto. Dove andavi a studiare in Giappone? All'inizio a Tokyo e poi dopo ci siamo spostati a studiare a Yokohama, però soprattutto sempre con una base a Tokyo, perché comunque tutte le case editrici, tutte le cose di lavoro si svolgevano praticamente tutte a Tokyo. E poi dopo mi facevo un'oretta di treno e andavo a Yokohama dalla nostra scuola partner, la Yokohama Manga Kiyoshitsu, il cui fondatore è stato il mio primo insegnante di manga. Ecco, raccontaci un po' questa esperienza in Giappone, te giovanissima, un mondo completamente diverso, com'era tutto lavoro, oppure riuscivi anche un po' a divertirti, a vedere un po' il Giappone? La prima volta che ci sono andato ho fatto un po' il giro turistico, quindi il Buddha, il Buddha, il Nara, che dà i biscottini ai Daini, Osaka, le terme, tutte queste cose qui. Poi dopo Tokyo e lavoro. Però in realtà il lavoro è divertente, per me il lavoro era divertente. Per la cronaca mamma aveva una sua scuola online, quindi era già veramente avanti con i tempi, quindi poteva lavorare tranquillamente anche da Tokyo. Vedi che cosa fa lo smart working, in effetti? Sì, faceva già italiano, ha sempre lavorato nel giro delle traduzioni dell'italiano per stranieri. Quindi poi dopo faceva lezioni online al computer da Tokyo, perché tanto era online. La tua mamma ti ha dato veramente tanto, cioè non a tutti hanno questa fortuna di dire io voglio fare la fumettista, voglio fare manga, non voglio neanche fumetti, perché di solito in Italia, come abbiamo sempre detto, fumetto è considerato di un certo tipo solamente Bonelli, quella tipologia di manga, quando anche tu eri piccola era ancora una cosa, adesso è un po' sdoganato, ma neanche tanto. Che ti abbiano dato veramente tutta questa possibilità è stata una cosa grandiosa. Sì, sono pazzi, sono più pazzi di me, perché chiaramente una bambina di undici anni che dice voglio fare la mangaka è anche abbastanza normale, perché ok, hai undici anni, non hai un senso proprio di quanto si allontano in Giappone, di cosa significhi lavorare. I miei genitori invece più pazzi di me hanno detto, va bene, allora comincia a studiare giapponese, perché tanto se devi fare una cosa che nasce in Giappone dovrei andare a studiare in Giappone. Anche quella, no? Un ragionamento molto normale per loro, ma chiaramente viene dalla loro esperienza del vissuto, perché comunque mia madre andava in Unione Sovietica a studiare russo, appunto in Russia quando ancora era Unione Sovietica, quindi chiaramente per loro aveva senso, per loro era normale. Poi dopo in realtà il resto, chiaramente mi hanno aiutato molto, poi il resto ce l'ho anche messo io, perché comunque loro l'hanno preso come un investimento, hanno deciso che poteva essere fatto, l'hanno preso come un investimento e gliel'ho poi anche ripagato. Cioè gli ho ridato indietro i soldi dei viaggi in Giappone e dello studio alla fine. Hai fatto benissimo, è una bella soddisfazione. Quanto ha influito il fatto di essere comunque di Lucca, quindi di vivere l'atmosfera del fumetto dalla fiera, cioè a Lucca si vive il fumetto in maniera clamorosa. Quanto è influito tutto questo anche sulla tua passione? In realtà il primo Lucca Comics l'ho fatto dopo aver scoperto i manga. Oddio, in realtà il primissimo Lucca Comics non me lo ricordo perché avevo tipo un anno e mezzo e mi hanno portato nel passeggino, ma quello è un altro discorso. Il mio primo Lucca Comics dove ci sono andata volontariamente. Il primo Lucca Comics dove ci sono andata volontariamente è stato dopo la mia scoperta dei manga. Però in realtà ho sempre letto un sacco di fumetti anche da piccola. Cioè avevo le pile di topolino alte quanto me che poi mamma religiosamente buttava proprio. Ogni tanto arrivavo e ce n'era qualcuno in meno. Entravo in camera e ce n'era qualcuno in meno, ma ero piccola, non ero tanto interessata a contare. Non mi tornava ma non mi tornava perché non crescesse la pila, però vabbè. Sto soffrendo. E poi Lupo Alberto, Dylan Dogg, tutto, c'ho i primi 200 numeri di Dylan Dogg nella libreria. Nella libreria. Diciamo che quella è proprio la base. E poi invece qual è stato il tuo primo manga, quello che ti ha fatto scoprire e nascere la passione. Allora, diciamo che ci possono essere tre svariate risposte, ecco. Però quello che io considero il mio primo manga, proprio il mio primo acquisto, è stato Peach Girl, che è una serie che in Giappone non conosce nessuno. Perché evidentemente era una serie che non era particolarmente famosa. E quindi probabilmente l'hanno presa appunto perché il licensing costava due soldi. E l'hanno tradotta come potevano. E quindi il mio primo acquisto manga è stato Peach Girl, volume 4. Perché non c'era un volume precedente. Ho scelto solo il fumetto che mi sembrava, che mi piaceva di più il disegno. Il battesimo del fuoco. Sì, sì. E poi dopo in realtà l'ho comprato in segreto. Cioè non ero in libreria con i miei monitori. Sono andata in un tabacchi dove i miei non ci giravano particolarmente. Ho preso, ho comprato questo fumetto vergognandomi. Sono andata in camera, chiusa la porta chiave a leggere questo fumetto in gramaglie perché pensavo, perché pensavo, insomma, perché mi avevano messo in testa un sacco di idee strane lì per lì con i vari articoli, le varie comparsate in televisione di questi fumetti invocano il demonio. Penso a te, quindi avevi seguito già queste vicende. Già sapevi che sui manga c'erano un po' di... Io in realtà la primissima volta che ho visto un'immagine manga, al di là magari di guardare Sailor Moon in televisione, ma la prima volta che ho visto un'immagine manga, una pagina manga, è stata in televisione a una roba tipo Domenica Inn, Barbara D'Urso, una di quelle lì che fanno sti show e passavano queste immagini dicendo, eh questi sono pedofili, sono satanici, sono diseducativi e io che disperata guardavo queste immagini di queste, che poi erano ovviamente censurate perché dovevano passare in televisione nel pomeriggio, quindi non è neanche che... e però vedevo questi occhioni, questi capelli fluenti, diciamo, ma a me sembra tanto carino, ma no, sono satanica! No, cioè... Accettarti questi volumi, diciamo, illegali... E quindi mi sono... ho preso coraggio e mi sono comprata questo fumetto, temendo di trovarci dentro chissà cosa, invece era una storia normalissima di lei che è innamorata del suo compagno di classe, ma la sua migliore amica è innamorata del suo compagno di classe, ma il suo... ma il migliore amico di lei è innamorato di lei, però non glielo dice, insomma, in tutto il volume, in tutto questo volume, ed era già il volume 4, non si sono neanche tenuti la mano, questi qui, non si sono neanche detti mi piaci, proprio da lontano. E lì ho capito, è stata la prima volta, diciamo, che ho capito che non devo fidarmi di tutto quello che mi dice la televisione, ecco. Un'importante lezione importante. Sì, sì, ma abbiamo sentito anche recentemente... Diciamo che ora finalmente un po' abbiamo visto dei servizi, direi due, quasi fatti bene, però la media rimane sempre di questa... diciamo, c'è sempre questo ostracismo nei confronti del manga e della cultura giapponese che noi continuiamo a stigmatizzare. Ovviamente non tutto è bello dietro il mondo dei manga e anime, come dietro il mondo del Giappone, non siamo giappominca, come si suol dire. Però è anche vero e giusto che il fumetto giapponese sia considerato sempre in Italia un po' di serie B. Tu l'hai sempre un po' sentita questa cosa, che chi fa manga, comunque il fumetto giapponese, anche quello di normale, quello che viene dal Giappone, è un po' considerato sicuramente meno rispetto alle graphic novel, ai bonelli, ai... In generale noi parliamo di fumetto. Quindi, allora, intanto parliamo di arte, che già fare quadri è un lavoro di serie B rispetto a lavorare alle poste. Non so perché, perché mi sembra che le persone che facciano quadri siano già molto più produttive di quelle che stanno alle poste, ma lasciamo perdere. Andiamo avanti. Quindi già fare arte è un lavoro di serie B. Non essenziale. Fare fumetto è un lavoro di serie C, fare fumetto di nicchia, come può essere il manga, è un lavoro di serie D, e insegnare, magari anche insegnare a fare fumetto è ancora peggio, perché poi... Si viene ostracizzato anche all'interno del fumetto mondo. Sì, infatti, anche all'interno del mondo artistico ostracizzano il mondo del fumetto, e all'interno del mondo del fumetto ostracizzano il mondo del manga. Che, cioè, ragazzi, siamo tutti qui a disegnare, per favore, diamoci una mano. Io non so, secondo me è successo anche a te, io da direttore editoriale del sito mi trovo alle fine del fumetto a prendere il caffè, allora dico, ma sei anche una persona di cultura, nonostante tu ti occupi di quella roba. Ho detto, scusi, che roba mi occupo? Quella roba. La cosa per bambini, cioè, 40 anni, ancora che ti reggi i fumetti, i zozzi. Caterina, ti giuro, gente di siti che parlano di fumetto, capito? Quindi dovrebbero essere i miei, fra parentesi, colleghi, che mi guardano sempre così, dicono, beh, tu sei in questa età, ancora vai appresso a quella roba, ma leggi le cose occidentali, le graphic novel, evolviti. Poi adesso finalmente c'è un'apertura, dal punto di vista, perché adesso è stato un po' sdoganato, almeno i tezuka, queste cose qui, passano un po' come... Si sta un po' aprendo, è già più normalizzata. Io, appunto, mi ricordo dieci anni fa dove, in continuazione, dove c'era, dove, in continuazione, i manga sono satanici, sono pedofili, sono fatti male, sono bla bla bla, insomma. Mi ricordo com'era e abbiamo già fatto dei passi avanti. Si tratta di avere un po' di pazienza, secondo me, e di continuare ad andare avanti, perché tanto comunque, cioè, ci piace quello che ci piace, non è che possiamo metterci a leggere le graphic novel per far contento qualcun altro, che me ne frega, dell'opinione che ha Tizio Caio di me. No, ma poi io me le leggo anche, perché io sono appassionato di fumetti e animazioni a tutto tondo, però... Le mie graphic novel le ho lette, tranquillamente. Io adesso ho 300, ho letto una graphic novel su Beatles bellissima, mi sono finalmente fatto la rilettura di Watchmen che andava fatta a suddella, cioè, il fumetto occidentale è bello, ma questo non implica che non sia bello anche il manga, siamo appassionati di fumetti a tutto tondo. Però ecco, tu sei andata in Giappone, quindi, grazie ai tuoi genitori che ti hanno spinto, perché a 14 anni, effettivamente, è stata sicuramente una bella impresa, dove hai studiato e con chi per imparare a fare manga? Allora, la prima volta che sono andata in Giappone, lì per lì ho studiato giapponese, ho fatto il giro turistico, ho studiato giapponese, la seconda volta invece sono entrata in una scuola, in una semmongakko, cioè una scuola specialistica, che faceva appunto... manga, però in realtà non mi hanno messo subito in una classe, mi hanno messo a fare una lezione, a fare lezioni private con due insegnanti, il Sensei Kaku e il Sensei Matsuda. Andando poi la seconda volta, mi hanno messo in una classe e non c'erano più questi due Sensei e già non mi piaceva particolarmente, l'insegnante non ci seguiva molto bene, entrava e usciva dalla classe, a volte stava anche mezz'ora fuori dalla classe e ci lasciava noi a disegnare, noi lì che vabbè disegneremo, spiegazioni minime, insomma non mi piaceva, non mi piaceva, non mi stavano seguendo bene. Mi sono divertita con i compagni di classe, quello assolutamente, abbiamo fatto i nostri giretti scampagnati eccetera, però ero l'unica italiana, ero l'unica italiana, però ho avuto la fortuna che in quel momento in Giappone andava a Hetalia e quindi mi sono presentata dicendo, ciao tutti sono Caterina Rocchi, vengo dall'Italia, basta, come nella prima puntata di Hetalia Pasta e loro tutti contatti, yeee, allora abbiamo fatto amicizia subito. Però appunto non ero, non ero convinta di questa scuola e quindi sono andata a ricercare i miei insegnanti precedenti. Kaku è stato il primo a venire in Italia con noi e Matsuda aveva messo sulla sua scuola nel frattempo e quindi poi sono passata alla Yokohama Manga Kyoshutsu. Quindi insomma non sto neanche a nominare la scuola precedente semplicemente perché non la consiglio. Cosa hai studiato esattamente? Cosa bisogna fare per studiare manga? Che cosa ti hanno fatto fare? Mi hanno fatto fare, ma in realtà mi hanno fatto fare tutto ciò che ha a che fare con il disegno. Abbiamo avuto anche delle occasioni dove facevamo disegno dal vivo, natura e morte, anche quello è stato molto interessante. E poi è proprio tutte le tecniche specifiche che riguardano il manga. Quindi l'utilizzo del pennino giapponese, il retino, gli effetti tipo le linee d'azione, tutti questi tratteggi, come funziona la pagina manga, tutte queste cose qui che poi appunto vanno a creare la tecnica manga, perché poi alla fine il manga non è solo disegno, ma è anche proprio tecnica, perché si utilizzano degli elementi specifici, dei materiali specifici che vanno a creare quel look particolare che associamo con il manga. Ma ecco, ecco, questa è la solita, infatti, se quella che si cerca di spiegare anche dei trattori, manga non vuol dire che si faccia soltanto fumetto in Giappone, può essere fatto anche fuori dal Giappone, è anche la tecnica che viene utilizzato per fare quel particolare tipo di fumetto. Soprattutto, ed è soprattutto la tecnica, tante persone dicono stile manga, pensando allo stile, magari, pensano magari agli occhioni, pensano magari agli occhioni, i retini, i retini fra fra, le linee d'azione, però è un mischione di cose che non hanno in realtà, non sono in realtà ciò che il manga è. Nel senso, se uno dice stile manga, si mette, si fa di tutta l'erba un fascio, ma Doraemon, Berserk, Inoue, buttiamoci dentro anche la rosa di Versailles e i sospiri del mio cuore, cioè, ti sembra che siano tutti lo stesso stile, sono tutti manga, però non hanno lo stesso stile. E soprattutto non hanno tutti gli occhioni e non tutti usano i retini e non tutti usano le linee d'azione e i retini fruffru, insomma. Mi faccio vedere anche Urasawa, che ora va tantissimo e ve ne ho scoperto, non è assolutamente il disegno kawaii che si vede, per esempio, in uno shoujo manga, ecco. Magari se si seguono determinati target, quasi tutte le autrici, per esempio, degli shoujo, per un certo periodo hanno utilizzato un po' quello stesso, però se si parla di manga generalizzato in tutte le varie target, in tutti i vari generi, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Si tratta di adattare lo stile alla storia, chiaramente se vado a fare una storia romantica non mi metto a disegnare i protagonisti come Berserk, perché non ci si incastra la tematica con lo stile. Si tratta di quello, nella stessa maniera in cui appunto una storia come 20th Century Boys, non la puoi raccontare con lo stile di Doraemon. Magari puoi, però potrebbe non avere lo stesso. Abbiamo visto un fumetto che ci ha veramente lasciato interdetti, che è molto particolare, che è Bien Bien Phu, abbiamo fatto anche i commenti due giorni fa sul sito, editor da Bao, loro parlano di guerra in Vietnam e utilizzano uno stile molto kawaii. Esistono un po' queste vie di mezzo, le hanno usate anche in animazione, utilizzare figure un po' pucciose in argomenti palpo e in argomenti molto forti come la guerra. Sì, assolutamente, anche Happy Tree Friends, però quelli diciamo vanno a basarsi sulla dissonanza cognitiva di vedere una cosa con un tema del tutto diverso dall'apparenza. Anche Madoka Magica fino a un certo punto utilizza questa dissonanza cognitiva, vedi le ragazzine magiche, pensai, oh che bello, andranno a fare tante avventure. Episodio 3. Episodio 3. Dopo, sì, sì. Già nell'episodio 3 non è che cadano cose tanto belle e simpatiche. Esatto. Quindi infatti dipende molto, poi dipende molto dalle intenzioni dell'autore, appunto. Per esempio, Madoka Magica utilizza questa dissonanza cognitiva per creare uno shock. però, appunto, dipende molto, dipende dall'autore, è una scelta stilistica dell'autore, semplicemente, diciamo, se tutti i manga pulp fossero disegnati con lo stile MOE, allora probabilmente ci sarebbe, cioè per sorvertire il tema, per sorvertire il tema, allora utilizzerebbero lo stile pulp per fare il pulp. Caterina, poi tu sei tornata in Italia, sei tornata a Lucca e avete aperto una scuola. Come è nata questa idea, che all'epoca penso sarà stata giudicata un po' stravagante, aprire una manga school e poi con te come protagonista e come insegnante, che eri davvero giovanissima? È nata molto per gradi Lucca Manga School. La prima volta che abbiamo invitato uno dei miei insegnanti giapponesi avevo 17 anni e all'inizio pensavamo faremo magari un corso l'anno, una classettina, le prendiamo, prendiamo le classi in prestito da questa scuola, una scuola di italiano che si chiamava Lucca Italian School, si chiama Lucca Italian School, esiste ancora, e allora noi, ah ah ah, allora chiamiamola Lucca Manga School. Il nome è rimasto, perché poi è cresciuta in una maniera talmente organica, come se, cioè, come se avessimo dato vita a qualcosa, non era, non è mai stata una cosa, Lucca Manga School non è mai stata una cosa che abbiamo mai potuto controllare appieno, si è sempre mossa di vita sua, di vita propria e noi semplicemente il nostro compito è solo di cercare di indirizzarla nella direzione migliore, però appunto vive di vita propria. La prima volta che abbiamo fatto un corso pensavamo vabbè dai faremo magari un corsettino una volta l'anno e invece poi abbiamo, gli studenti continuavano a chiederci e continuavano a chiederci per i prossimi corsi, cominciavamo a fare i primi sold out, allora dovevamo aggiungere altre date e Mazzuda che è stato, la prima volta è venuto Kaku, la seconda volta è venuto Mazzuda e dopo un po' appunto Mazzuda mi ha detto, senti ma perché devo venire io dal Giappone per insegnare le cose base? Fai due corsi, fai il corso base e poi si fa il corso avanzato e per il corso avanzato vengo io e in quello base insegna te. Io avevo 19 anni, non avevo la minima intenzione di non avevo la minima intenzione di diventare un insegnante però mi ci sono trovata e sai come fai a dirgli di no. E quindi niente, ho cominciato ad insegnare. Quindi hai cominciato ad insegnare e hai praticamente svezzato diciamo più di una generazione di disegnatori e disegnatrici manga, qualcuno sta anche facendo una discreta carriera. A 19 anni hai fatto questo, cioè io ogni tanto parlo di te a tante persone per dire ragazzi ma questo a 19 anni insegnava, vedete questo disegnatore, l'ha cresciuto Caterina Rocchi che aveva 19 anni. No vabbè, ora poi è già passato un po' di tempo, è già da un po' di tempo che non ho più 19 anni per fortuna, adesso ne ho 27 giusto per me. Sì sì, è vecchio ormai. Perché mi rendo conto che lo devo dire quanti anni ho perché a volte non è molto chiaro, perché un po' per le cose che ho fatto magari può sembrare molto più in là, per altre cose tipo la cameretta rosa invece può sembrare altro, quindi lo dico tranquillamente, adesso ho 27 anni e quindi sono nel mondo del manga da svariato tempo ormai. Anche la scuola... Quali sono state le maggiori soddisfazioni da insegnante? Da insegnante? Ci sono tante soddisfazioni, nel senso non mi viene in mente una singola cosa. Diciamo che una delle ultime soddisfazioni per me è stata vedere i miei studenti pubblicati su carta, ecco. Due dei nostri studenti del biennale sono stati pubblicati, insomma gli è stato pubblicato il loro capitolo autoconclusivo dopo una revisione da Manga Senpai, la casa editrice Manga Senpai, perché abbiamo fatto ogni anno, noi facciamo i corsi biennali, il primo anno si studia diverse cose sul disegno, diverse cose nel disegno e nel manga e nel secondo anno ogni studente crea una sua proposta editoriale. Queste proposte editoriali vengono alla fine presentate a un editore, in questo caso francato di Manga Senpai, gli è piaciuto, gli sono piaciute queste due proposte in particolare e quindi poi le ha prese e le ha stampate. Puoi anche fare i nomi dei tuoi studenti che hanno... Ah, Matteo Manca e Michel Tavano. Anche perché giustamente sono soddisfazioni per te e per loro, assolutamente. E poi in realtà la tua esperienza in Giappone non è finita con le lezioni quando eri 14 anni, tu ci sei tornata varie volte e hai avuto un'esperienza clamorosa, quella addirittura di essere assistente di un mangata. Ne abbiamo anche parlato in un articolo, ma non ne abbiamo mai parlato dal vivo, mi sembra. È vero. È vero, non ne abbiamo mai parlato dal vivo. Però credo che una delle prime cose che ho fatto dopo che avevo finito l'esperienza di assistentato sia stata contattare Anime Click per fare questa intervista finché era ancora fresca. No, ma perché non capita tutti i giorni di avere una ragazza che ti può raccontare cosa succede nella bottega di un mangata. Sì, è stata un'esperienza veramente unica e interessante. Come è stata un'esperienza per chi non conoscesse la tua storia? Praticamente è cominciata mentre ero in classe nella Yokohama Manga Kiyoshitsu e c'era Matsuda che vedevo che girava tutto agitato, telefonava, telefonava, telefonava. Chiappavo qualche parola, però parlava tutto concitato, sottovoce, a giro. Allora gli ho chiesto che cosa stava succedendo e lui ha detto che un mangaka che lui conosce aveva bisogno di un assistente perché era tipo una settimana dalla consegna, aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse e non stava trovando nessuno tra le persone che normalmente l'aiutavano. E quindi ho alzato la manina e ho detto ma non è che posso farlo io? Disturbo? Ci vuole pure coraggio, perché molti non l'avrebbero fatta questa richiesta. Ma io non ci ho neanche pensato, posso farlo io proprio così come reazione naturale perché comunque era da tanto che pensavo che volevo fare un'esperienza del genere e questa occasione mi è stata proprio pom, buttata proprio davanti e ho detto va bene, la prendo, proviamoci, proviamo a prenderla. E quindi ho chiesto. E Mazzuda mi ha detto guarda siccome sei straniera io ci provo, glielo chiedo, siccome sei straniera magari facciamo un incontro prima per fargli vedere che sai parlare effettivamente giapponese. fatti un portfolio. Quindi io ho messo insieme tutti i disegni, tutti gli sfondi, i retini che avevo in quei giorni e abbiamo fatto, e l'abbiamo incontrato. Il maestro Tanabe. Tanabe, un uomo proprio di poche parole, di poche parole, proprio molto dritto al punto. se hai sfogliato sti disegni, fa va bene, allora ti aspettiamo. Te dove vivi? Ti faccio a Tokyo. Ok, allora ti metto un letto e dormi da me. Perché voi dormite, cioè praticamente quando tu lavori per un mangaka si vive tutti insieme, no? Si lavora 24 ore su 22. Non per forza, però lui viveva a due ore e mezzo di treno da Tokyo. Quindi se dovevo tornare a casa per dormire, praticamente non avrei dormito. Quindi mi ha messo un letto lì, mi ha messo un letto lì e ci siamo organizzati così. Ha detto ti dà fastidio? No. Va bene, allora dormi da me. E quindi ci siamo organizzati così. Quindi arrivo io con la mia valigetta nel bel mezzo di niente. perché sai proprio il paesello, il paesello che vedi negli anime con il fiume, con il fiume che fa così, con la riga così, no? Il ponte per arrivare dall'altra parte, proprio il paesello. La campagna giapponese. La campagna giapponese, fantastico. Quindi nel mezzo di niente, sono arrivata da loro. Non avevano neanche il wifi nello studio. Quindi io poi dopo pagavo una roba tipo 6 euro al giorno per utilizzare il wifi del telefono. Perché giustamente non potevo usare... Insomma, quando sei fuori dall'Italia devi pagare un tot di più. Soprattutto in Giappone devi pagare un tot di più se vuoi utilizzare la connessione dati. Quindi io pagavo tipo 6 euro al giorno per dire ai miei genitori che andava tutto bene, che stavo bene, mandare ogni tanto qualche foto della situazione. Come sono i ritmi di lavoro? Come? I ritmi di lavoro per chi lavora appunto per un magasso. I ritmi di lavoro, ecco, in realtà non sono stati tremendi, secondo me. Cioè, pensavo peggio, pensavo peggio. Non sono stati tremendi. Un po' perché il mangaka era un po' indietro con la... Grazie, Kirio. Un po' perché il mangaka era indietro con i tempi. Quindi finiva che dormivo di più perché lui non aveva le tavole pronte da farmi fare. Quindi lui andava... A mezzanotte lui usciva dallo studio e tornava a casa, il capo assistente usciva dallo studio e tornava a casa. E io mi mettevo nel mio materasso appoggiato sopra una libreria, un materasso appoggiato sopra una libreria con una tenda. Mi mettevo lì. E tipo... Si doveva aggiungere. Cosa? No, ma in che... Come... Fisicamente come un materasso sopra una libreria, scusa? Era tipo... Era tipo una libreria profonda e quindi ci avevano messo sopra un materasso. Non lo so. Dovevano... C'era un'altra libreria sopra, un altro mobile sopra e l'hanno spostato. Non lo so, fatto sta che dormivo su una libreria. Un'esperienza, diciamo. Esperienze di vita, direi. Esperienze di vita, esperienze di vita. Ma sei solo tu o c'erano anche gli altri assistenti? Che mi arrivava alle spalle, mi arrampicavo su sto mobile e mi mettevo a letto con la tendina attaccata con le puntine al soffitto. Ma c'eri solo tu e lui oppure c'erano anche altre persone? Eh, lo studio era molto piccolo, nel senso, meno di questa stanza, ecco, la parte dove si disegnava. Meno di questa stanza, penso. Piena di librerie poi, quindi piena di librerie, scrivanie, le pagine da tutte le parti, due cani e un gatto. Come due cani e un gatto? Sì, due cani e un gatto, uno dei cani poi si sentiva male e quindi vomitava in continuazione. Il gatto, però non si poteva aprire la finestra perché il gatto usciva. E io dormivo con il gatto. Caterina, quanti eravate che lavoravate con lui? Eravate solo tuoi? In tutto, normalmente, nei giorni normali eravamo il maestro, il capo assistente e io. E poi, però, a un certo punto, in questo spazio minuscolo, ci siamo entrati fino a sei persone. Mamma mia. Sono arrivati altri tre mangaka, amici del maestro, per dargli una mano con le tavole all'ultimo minuto. Quindi, strizzati così, strizzati tutti, uno accanto all'altro, gente che retinava per terra. Un'esperienza, un'esperienza. Caterina, tu non sapevi neanche su che cosa stavi lavorando? No, non avevo la minima idea di a che cosa stessi lavorando. E, infatti, stavo cercando di capire, dalle tavole che mi arrivavano, ma era tipo una... Credo di aver capito che fosse una storia di un missionario, di questo che andava a spargere il verbo di Cristo, è andato in Giappone e è stato torturato malissimo. E, se non sbaglio, è stato anche... Ci hanno fatto anche il film, poi, a un certo punto. Ci hanno fatto anche il film, a un certo punto, sulla storia di questo ufficio qui, che è andato in Giappone per portare la parola di Gesù ed è stato torturato malissimo. Infatti, poi, dopo, ovviamente muore, perché chiaramente era un martire. Forse era Silence, forse era Silence. Non mi ricordo il titolo del film. Mi ricordo che l'avevano nominato agli Oscar e ho scoperto... E quando ho visto, appunto, che c'era questa nomination agli Oscar che dicevano di che cosa parlava, ho detto, aspetta, ma io ci ho fatto il manga. Questa è fantastica, la storia è incredibile. Quello di Spassese. Sì, penso di sì. Penso di sì. Aspetta, vai ora, controllo un attimo su Google. Impresa diretta. Caterina, quanto è durata questa esperienza? Sì, Silence, Silence. Credo che sia proprio quello. L'esperienza, poi, è durata una settimanella. È durata una settimanella. Il tutto doveva essere, tipo, tre, quattro giorni, però mi ha chiesto di restare di più perché gli avevano dato più tempo per consegnare e quindi sono rimasta un po' di più. Un giorno sono dovuta ritornare a Tokyo perché stavo rischiando di perdere l'appartamento perché c'è stato un problema con i pagamenti e quindi sono dovuta tornare a Tokyo per pagare l'affitto. In realtà sono morta sul letto. Mi sono addormentata talmente profondamente che mi sono svegliata, tipo, nel pomeriggio quando mi stavano bussando alla porta quelli della casa. Quelli della casa. E gli ho dato i soldi in mano e sono tornata a dormire. È stata un'esperienza devastante. Esausta, esausta, veramente. Però è stato bello, è stato veramente bello. Mi sono divertita un sacco e lo rifarei in qualsiasi momento. Sei mai stata ostracizzata dal fatto che eri straniera in Giappone? Un po' sì, un po' sì, perché tante volte mi sono trovata in situazioni dove magari volevo interagire, però non si fidavano che io parlassi giapponese. Tante volte non si fidano che io parli giapponese. Tipo, nonostante io sia un livello di giapponese parlato, se posso dirmelo da sola, molto buono. Quando ho fatto gli esami dell'N4, quella della parte parlata mi ha detto ma perché te non sei all'N2? Ho detto perché non so i kanji. Però appunto al parlato sono a un ottimo livello. Il problema appunto è che tanti giapponesi, i giapponesi hanno quest'idea che il giapponese è difficilissimo. È difficilissimo da scrivere, però non da parlare. Anzi, parlarle è molto facile. E quindi, siccome però hanno quest'idea che il giapponese è molto difficile, non ti parlano, oppure cercano di parlarti in inglese. Che è meglio che evitano, perché parlano in inglese peggio di me. Poi magari si vergognano a parlare inglese, oppure quando ti presenti pensano che tu ti sia studiato la presentazione in giapponese, però tu non sappia dire assolutamente nient'altro. E quindi a volte avere una conversazione può essere difficile. Quindi, diciamo, la barriera è linguistica. Però, a parte la barriera linguistica, una volta che riescono a capire che so effettivamente parlare giapponese, una volta che riesco a dimostrargli di parlare giapponese, allora tendono a sciogliersi e allora lì cominciano le chiacchiere. Poi la xenofobia in Giappone c'è sempre, c'è sempre stata, assolutamente. Però quando dico che sono italiana ricevo un trattamento diverso perché tutti adorano l'Italia, insomma. Sì, no, c'è questa passione loro per l'Italia, considerata ancora come luogo di cultura. Poi abbiamo anche alcuni italiani che stanno lì e che hanno lanciato un po' di stereotipi su di noi. C'era Girolamo Pansetta, ora mi dicono che è stato superato. Adesso c'è anche Peppe che è un protetto di Girolamo e quindi, boh, vabbè, non ci sono troppo... Del vestito. Io alla fine vado in Giappone per incontrare i giapponesi, per creare rapporti Italia-Giappone. Gli italiani in Giappone essenzialmente non mi interessano perché non è la mia area di lavoro, ecco. Caterina, cosa stai facendo adesso invece? Proprio... Qual è la giornata tipo tua? La mia giornata tipo è passata tutta al computer. Per esempio, oggi ho cominciato facendo un po' di lavoro di PR per la scuola. Ora siamo in live. Dopo faccio una lezione e dopo mi metto a fare grafiche per i corsi, per fare le sponsorizzate su Instagram. Quindi così. Tutto avanti così. Secondo te a che punto siamo del fumetto in stile manga, come abbiamo detto? Se uno si triggera e non vuole chiamarlo manga, chiamiamolo Japan Style, non diamo neanche un nome. Però ecco, c'è la possibilità davvero che ora ci si apra un po' di più... Noi ne parlavamo l'altro giorno con Albiero, abbiamo visto che in Francia sono molto più aperti da questo punto di vista. Cioè hanno fatto i Cavaliere dello Zodiano, Capitano Arlock, fatti da un francese ed è arrivato anche in Italia, ha venduto. Tra l'altro è stato fatto sia in Giappone che in Francia, è uscito contemporaneamente. con la Chopin, che è anche una casa di un editore che tu conosci molto bene. C'è la possibilità che esperimenti del genere si possano fare anche in Italia? Io sono tranquillissima, nel senso, a parte che so già di progetti di collaborazione Italia-Giappone, adesso sono sotto NDA, quindi non posso dirlo, però ci saranno progetti Italia-Giappone, ecco. Per adesso, secondo me, si tratta solo di una questione di tempo. Si tratta solo di una questione di tempo, bisogna un po' avere la pazienza di lasciare maturare il manga, la pazienza di lasciare che il pubblico cominci a crescere e cominci a prendere coscienza di come funziona il mondo del fumetto, di come anche il fatto che alla fine è tutto fumetto, cioè manga o meno, è tutto fumetto, si tratta solo di creare storie, in una maniera o in un'altra sono comunque storie. È un po' come se i film e le serie tv si facessero le guerre tra di loro, non ha tanto senso, alla fine è la stessa cosa. Sì, solo raccontato in modo diverso, diciamo. È solo un metodo diverso, è solo un metodo diverso. Caterina, dovessi avere il tuo fumetto, il tuo manga, quale storia ti piacerebbe portare avanti? Nessuna. Io non sono interessata a fare un fumetto mio, sorry. E questa è una cosa incredibile per me la disegna. È la prima volta. Mi rendo conto che suona strano. Chiaramente da piccola sono partita con l'idea di voglio disegnare anch'io manga, voglio fare il mio manga, voglio fare le mie storie. E ne ho fatte. Ho disegnato un sacco, ho fatto un sacco di pagine, finivo le risme da 500 fogli, ho una pila gigantesca di roba, di disegni e di storie. Mi facevo praticamente i jump, però disegnati interamente da me. Lasciamo stare. La funiglia. A parte, però, andando avanti, mi sono... Buongiorno, Shoji. Ciao, Shoji. Ciao. Però a parte, cioè, una volta che ho cominciato ad entrare nel mondo del manga, una volta che è nata anche Luca Manga School, ho scoperto che alla fine fare storie, fare io fisicamente la fumettista non è tanto per me. Preferisco aiutare a formare i prossimi fumettisti, ma non credo che reggerei, ecco, io personalmente la pressione di dover creare una storia, ecco. A me questo mi sembra incredibile perché tu sei giovanissima, 27 anni e hai una saggezza da persona di 50. Quando tu dici così ti dice veramente penso che sia una cosa molto meritoria, cioè, piuttosto che fare te un suo fumetto preferisci insegnare agli altri come farlo. Sì, trovo che trovo che si adatti di più perché comunque sia io sono io sono andata in Giappone, ho imparato tutto quello che ho imparato, ho fatto tutto quello che ho fatto, tutte queste esperienze, tutte queste cose, secondo me sono messe molto, cioè, sono molto più preziose per gli altri, cioè, se riesco se riesco a portare agli altri queste esperienze, se riesco a portare agli altri le mie conoscenze, ha più senso, cioè, ha più senso, perché dovrei tenermele per me, però se voglio fare, se voglio portare agli altri queste conoscenze, devo prendere una decisione e alla fine comunque, cioè, appunto, ho scelto di insegnare, di divulgare, di fare l'ambasciatrice manga, divulgare, insomma, informazione intorno al manga e aiutare un po' tutti quanti a fare quello che vogliono, perché io ho avuto l'occasione di farlo, ho avuto l'occasione di andare in Giappone, ho avuto la possibilità di fare tutte queste cose e mi rendo conto che è una cosa, non è una cosa ordinaria, che non tutti possono, non tutti possono permettersi di prendere e andare in Giappone a 14 anni, non tutti hanno i genitori pazzi come i miei, visto che ne ho l'occasione, è giusto che lo faccia. Tra l'altro, come dicevamo prima, che quando terminiamo le live arrivano le persone, adesso siamo a 100 persone che ci stanno seguendo. Vabbè, meglio anche di Caterina, non ci sono di me, di Cristina. Io sono commosso da quello che ha detto lei, onestamente, è una roba bellissima. Caterina ha ragione, ecco, bravo Luke, Caterina è semplicemente in mezzo e noi le vogliamo bene per questo. a questo punto quello che, no, Cristiano, se lo fa lei va bene. Oh, è che, non posso rispondere, scusa. Alessandra, adesso tocca che lo faccia anche te. No, no. Tocca, devi farlo, devi farlo. Invece ti volevo chiedere, è come cambia argomento. No, cambia argomento assolutamente. Caterina invece, non nel mondo degli anime e manga, cosa fa, quali sono le tue passioni? Perché qui parliamo anche di quelle che sono un po', anche le cose extra, quello di più sono a visualizzare. Fuori dal disegno sono una vecchietta, cioè faccio a maglia, fa ricamo, fa il punto croce, faccio, sono una vecchietta. Lì si vede un po' di lana accumulata per vari cose. Ho fatto, ho fatto, personalmente fatto quella coperta lì e laggiù c'è un maglione, laggiù c'è un maglione in divenire. Così. Fantastico. Bello. Sono una vecchietta, sono una vecchietta. Ma sai che pensavo che tipo quei rotoli di lana la realtà fossero tipo dei plushi, tipo i... Ah, sì. I presenti... Sì, sì. Esatto, quelli, pensavo fossero quelli là. Ah, e poi i gatti e topi, sì, vero, faccio un po' di volontariato con gli animali in questo momento. Normalmente, normalmente ospito gattini in attesa che vengano poi, che vengano poi adottati. In questo momento ho tre topi. se qualcuno vuole dei topi, vi prego contattatevi perché ci vanno un mese. Ma topi? Topi domestici. Sì, topi domestici. Sono simpaticissimi, li adoro. Come ne trovate? Così in giro. Come so anche il gatto, cioè loro si stressano perché sentono l'odore del gatto, il gatto si stressa perché sente l'odore dei topi. Non è vita, ecco. Adesso che sta uscendo, adesso che sta cominciando la primavera, comincia la stagione dei gattini, quindi devo prepararmi a cucciolate, ingenti. Quindi qualcuno, centinaia di anime click, se qualcuno vuole un topo mi contatti. Un topo, ragazzi. Se volete un topolino magari faccelo vedere prossimamente in qualche foto e diffondiamo la cosa. Guardate, se andate sul mio profilo Instagram, c'ho il profilo personale, il profilo dei disegni è Caterina LMS e poi Pano e Manga è il profilo delle mie cavolate e ho fatto l'highlight delle stories dei topolini, quindi potete vederli lì. Ragazzi, se volete un topolino made in Caterina Rocchi andate tutti sul suo canale Instagram, li vedete, se vi piacciono scrivetegli. Tra l'altro, a proposito di gatti, mi è arrivato ieri Star Comics, ma magari... Michael! Sicuramente, che Caterina, tu magari non te lo ricordi, è un cartone animato un po' vecchiotto che si chiamava Ciao, io sono Michael, che parlava delle storie di questo gatto ed è una cosa incredibile, quindi non so se se in live si vede, c'è proprio che tu tocchi, è tipo un peluche che poi sembra che accarezzi il gatto praticamente. Si chiama La Miao Edition. Poi vabbè, su, La Miao Edition. La Miao Edition. Tu l'hai mai visto questo cartone animato sui gatti? Non so. non l'ho visto. Un po' vecchiotto. Però ho tutta la serie di Cheese with Home. Eh beh, sì, sì, sì. A proposito, manga, sì, scusami, gatti e topi, quindi li disegni, ti piace disegnare animali? Ma neanche tanto, più che altro disegno ragazzette carine, più che altro, più, è rilassante. Invece ecco, per chi inizia, questo così chiudiamo anche la live di oggi, con appunto un po' di informazioni, chi vuole, è appassionato di manga, adesso il manga sta vivendo un boom, come ne parliamo spesso, come mai prima d'ora, che deve fare? Cioè, come può fare per diventare mangaka? O comunque il fumettista stile manga? Il primo passo, secondo me, è volerlo fare. Cioè, so che sembra strano, però il primo passo è volerlo fare. Se lo vuoi fare, se c'hai la passione, se ti piace, sei già un passo avanti, secondo me. piano, poi c'è sempre tempo per cominciare a studiare, però per me la primissima cosa è proprio farlo con tutto se stessi, con tutti se stessi, farlo con la passione, farlo con tanta voglia di fare. E poi c'è anche lo studio, chiaramente a Lucca Manga School noi insegniamo, abbiamo corsi per tutti i livelli, gli insegnanti in prima persona si adattano a livello dello studente con correzioni, con correzioni mirate. e io appunto tendo a consigliare i corsi più dei, oh grazie Shoji, tendo a consigliare i corsi più dei manuali, perché i manuali non hanno la componente di correzione, quindi si rischia di prendere delle brutte abitudini molto facilmente e poi dopo le varsele è durissima. E poi appunto il manuale e basta è uno studio incompleto. Ci vuole qualcuno che sappia quello che fa e che sappia quello che dice che vi diriga nella direzione giusta. Hai mai pensato di fare anche animazione? Ci ho pensato però mi sono però ci ho pensato però per fare un secondo di animazione servono 24 frame. In un mese disegno boh due disegni faccio due disegni quindi un anno ci vorrebbe per fare un secondo di animazione un anno due anni un anno o due per fare un secondo di animazione quindi ho detto vabbè lasciamo stare sarebbe divertente studiarlo sarebbe divertente farlo ma lasciamo stare. Hai qualche consiglio nerd da dare di serie che stai seguendo stai seguendo serie televisive fai qualcosa tipo videogiochi io no ovviamente ma magari qualche consiglio nerd che ci stai a fare di Cristiano? Mario Mario mi è arrivato ieri vedo anche te un cultore della Switch anche io quello direi che parla chiaro direi che parla direi che parla chiaro non a livello di anime e manga uno degli ultimi una delle ultime serie che sto che sto leggendo è Atelier Witch Hat bello molto carino un bello stile una storia una storia molto carina e leggibile quindi posso consigliare quello prima stavo parlando di animazione mi sono ricordata che non ho detto che facciamo a volte anche i corsi online di animazione però appunto non insegno io ma insegna ma c'è un insegnante che vive e lavora in Giappone italiana così possiamo fare il così appunto chi vuole studiare animazione può studiarlo da una persona che la sa fare ecco ragazzi da fare live su Twitch e anzi dici il nome del canale riportiamo magari Cristiano riportiamo anche il canale il mio canale pane e manga su Twitch per quelle sono vabbè le mie live personali quindi c'è un po' di tutto io che disegno io che gioco ai videogiochi che faccio a maglia chiacchiero qualsiasi cosa invece per le cose più di disegno c'è il canale di Luca Manga School anche lì su Twitch Luca Manga School ad apprenderli entrambi grazie serie tv e videogiochi invece stai facendo qualcosa attivamente visto che vedo che giù chicchi pure te videogiochi sì ora sto sto finendo Phoenix Wright mi sono presa la trilogia rimasterizzata sono al secondo sono al secondo gioco ancora sto ci sto lavorando piano piano nei weekend su Phoenix Wright a che caso sei di Justice for All così per sapere sono al caso con quello dove Mia ha fatto un dove pensano che Mia abbia ucciso un tizio però in realtà era uno spirito che si era impossessato di lei ah ok il secondo il secondo caso di Justice for All molto bello quello lì molto molto bellino e invece quanto a serie quanto a serie tv vediamo cosa sto guardando adesso metto metto un qualsiasi sottofondo adesso quindi non è che abbia niente in particolare da consigliare ti chiedono pure di fare gameplay di Yakuza di Yakuza aiuto non so se è proprio il mio il mio tipo di gioco sono un po' impedita con il con i joystick non sono molto veloce che poi un altro cambiamento di Caterina è che una volta a livello social era un po' più timidina diciamo ora ti stai un po' lanciando mi sono arresa mi sono arresa ormai faccio i video su tiktok faccio i reels faccio i balletti su tiktok faccio i balletti su tiktok perché perché ormai se vuoi comunicare devi comunicare in queste in questi modi devi comunicare in queste maniere qui e quindi vabbè così ti sblocco un ricordo ti sblocco un ricordo di Phoenix Wright ragazzi se fosse per me poi io non comparirei affatto in realtà se fosse per me non comparirei affatto però vabbè si fa tutto per la scuola sì immagino tu sei una persona molto riservata anche a Prifti in questa maniera è sicuramente anche un'altra fase di crescita perché fosse per te staresti a casa a fare maglia e disegno immagino sì mi vedreste solo a lezione metto anche il tuo instagram nei commenti allora seguite assolutamente Caterina sul suo canale Twitch così magari troviamo anche casa questi poveri topolini che ormai stanno lì e poi anche tutti i gattini che seguiranno poi è una cosa che faccio anche io che tanto aiutiamo gli animali perché veramente c'è tanto bisogno anche di aiuto da parte loro sono tanto carini e soprattutto molti li abbandonano ma è un peggio tantissima e poi seguite ovviamente è anche bello averli in giro cioè vai sa un po' di com'è quella citazione tipo adoro adoro le ragazze e le superiori perché loro restano sempre della stessa età il tempo per me va avanti ma loro restano sempre della stessa età ecco la stessa cosa adoro i gattini adoro lo stallo dei gattini perché loro restano sempre della stessa età è come avere sempre un gattino in casa che non cresce mai solo che sono gattini diversi avere i cuccioli è sempre molto bello perché poi sono piccoli fragili li puoi coccolare capisco bene anche i cangiolini e non graffiano come la robin mamma mia l'altro giorno io poi io mi occupo particolarmente di gatti di gatti ripresi anche da situazioni un po' 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 di selvatici e quindi si tratta tanto tempo è anche passato tipo al cellulare accanto alla gabbia del gattino col gattino lì sì no perché poi quando sono molto foresti è veramente complicato riuscirli a domesticare perché ormai sono selvatici però è bello è bello provarci è bello dargli una possibilità di essere di essere coccolati e di solito poi quando quando capiscono come funzionano le coccole si sciolgono rapidamente allora ragazzi siamo in conclusione ovviamente siamo arrivati a cento però avevamo detto anche loro anche perché Caterina ha da fare però se la volete seguire abbiamo Cristiano vi ha messo i link di Twitch sia per quanto riguarda la Lucca Manga School sia per quanto riguarda Pan e Manga sia per quanto riguarda Instagram quindi seguite assolutamente mettete un bel like a Caterina Caterina tanto noi ci vedremo spesso anche se speriamo anche dal vivo prossimamente fiere non se ne parla per un bel po' anche voi ormai avete ce l'hai detto basato un po' tutta la vostra didattica sull'online sulla situazione virtuale magari a Lucca quest'anno magari ce la facciamo che dici? Speriamo speriamo qui è tutto è tutto in dita incrociate non si può fare altro incrociare le dita e vedere come va la situazione esatto poi prima o poi faremo una live poi prima o poi faremo una live a te solo per parlare di gatti anche di cani perché io sono un grande appassionato anche di cani quindi va benissimo e perché lo ha puri topi? se volete porto guest star la Robin non so dove è finita starà mangiando probabilmente il tuo gatto non lo fai vedere mai perché è sempre di sopra non ti caga mai ma anche il gatto quello è il problema è sempre di sopra è normale che non lo vido mai tra l'altro tra poco fa un anno piccolina ancora Caterina grazie mille e ti aspettiamo sempre qui qui sia di casa lo sai sia sul sito che ovunque ci sia in i miei click sta sempre l'amicizia con la Lucca Mangascol e con Caterina Rocchi che seguiremo ancora in tutte le sue vicende in tutte le sue avventure ciao Caterina ciao grazie di tutto ecco i ragazzi che ti salutano io vi do appuntamento a questo punto domani mi sembra no Cristiano perché è stata un'aggiunta nell'ultimo minuto con Gigi che si fa vedere il suo unboxing di questo mese il suo pacco di mangi a proposito di pacchi accidenti beh questo è il pacco da giù il famoso pacco da giù ah ok ma roba da mangiare quindi guarda sento rumore di carta che si muove quindi in realtà penso che mi abbiano mandato la mia collezione di pokemon perché è un po' di taralli ovviamente allora grazie mille grazie per avermi ospitato per chi volesse appunto rivedermi ci troviamo sul canale twitch panemanga oppure luccamangaschool ciao a tutti ragazzi alla prossima grazie mille ciao